Musica Riunione questa mattina in municipio a Canicattì in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico parecchi problemi emersi, la maggior parte degli istituti privo di certificazione antisismica Ritorna domani e dopodomani a Canicattì il Basket Festival, il centro storico della città vi va a una serie di eventi, numerose le novità di questa seconda edizione Sport, calcio, l'Akragas non va al di là del pareggio casalingo contro la Vibonese ottimo esordio del Canicattì in Coppa Italia, battuto il Serra di Falco Buon inizio settimana e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale in apertura ci occupiamo dell'avvio del nuovo anno scolastico a Canicattì stamattina in municipio si è tenuta una riunione voluta dall'amministrazione comunale erano presenti il sindaco e l'assessore Enzo Di Natali e numerosi dirigenti delle scuole dell'obbligo molti problemi che sono emersi e tra questi uno di fondamentale importanza la maggior parte degli istituti sono privi di certificazione antisismica l'intervista con il sindaco Ettore Di Ventura Sindaco, questa mattina un incontro con tutti i dirigenti delle scuole di Canicattì in vista dell'apertura del nuovo anno, ormai ci siamo quasi quali sono le esigenze che sono venute fuori, quali sono le urgenze delle scuole sul territorio? Le emergenze sono quelle di rendere l'ambiente scolastico pronto per essere utilizzato dai nostri figli prossimamente quindi fare dei piccoli interventi di manutenzione laddove è necessario individuare la pulizia per quanto riguarda le aree esterne nelle scuole poi i dirigenti rappresentavano anche altre esigenze ma queste richiedono un intervento successivo come il rifiacimento delle pavimentazioni per rendere sicuro l'uso degli istituti scolastici C'è però un'altra grossa problematica visto quello che è accaduto al centro Italia questo terremoto che ha sconvolto la nostra nazione purtroppo le scuole di Canicattì sono prive di certificato antisismico Sì stiamo facendo degli accertamenti quindi metteremo in atto una mappatura degli edifici scolastici locali per individuare quelle misure a correzione per garantire la sicurezza degli stessi alla luce degli eventi tragici che si è verificati la settimana scorsa nel centro Italia Ecco sindaco ci sono tanti interventi pensa che il comune riuscirà a farli prima dell'apertura del nuovo anno? Faremo il possibile per porre rimedio a questa situazione Le situazioni maggiori e più impegnative sono ad esempio la manutenzione dei bagni dei diversi istituti scolastici per questo appunto con gli uffici di manutenzione ci siamo già messi in atto o in moto per porre rimedio Il comune di Favara non doveva essere una casa di cristallo con i cittadini protagonisti delle scelte amministrative il sindaco Anna Alba in pieno delirio di onnipotenza ha deciso tutto da sole e ha deciso per il dissesto è l'incipit di una nota trasmessa alla stampa dai consiglieri di opposizione che non hanno mandato giù la via intrapresa dalla maggioranza 5 Stelle protesa a far dichiarare il default dell'ente la minoranza insiste, siamo di fronte ad un sindaco che non vuole assumersi alcuna responsabilità e che ha perso totalmente il senso della ragione del confronto democratico, del contraddittorio civile e costruttivo che vuole distruggere per costruire il niente frasi tutt'altro distensive che gettano benzina sul fuoco di una polemica che vede i grillini decisi a voltare pagina con il passato in tal caso addossando agli amministratori precedenti la responsabilità del fallimento del comune i consiglieri di opposizione sono convinti che quella del Movimento 5 Stelle sia una decisione insana, assunta in base a calcoli di convenienza politica una decisione aggiungono che mortifica e svilisce la dignità dei favoresi che dovranno subire l'onta e il danno che non meritano certamente una tale sciagura per questi motivi invitano il sindaco Anna Alba a prendere atto del proprio fallimento e consenso di responsabilità a rassegnare le dimissioni diverse associazioni che si occupano dei problemi dei disabili ad Agrigento scenderanno in piazza a Cavour e si uniranno in corteo al fine di chiedere un cambiamento delle condizioni di vita disagiata delle persone affette da disabilità varie e delle loro famiglie che hanno visto sospendere i servizi che garantivano il loro supporto necessario per l'assistenza quotidiana i manifestanti chiedono di avere ad esempio riconosciuta in Sicilia parità di trattamento e servizi 365 giorni l'anno come avviene in altre regioni italiane di essere liberi di scegliere dove vivere da chi farsi assistere attraverso l'erogazione di un assegno di cura per tutti qualunque sia il loro reddito e non solo per 15 famiglie come sta accadendo in quattro comuni di Agrigento Favara, Aragona, Raffadari nell'ambito dell'area distrettuale il corteo il giorno 31 di agosto attraverserà alcune vie di Agrigento per riaffermare il diritto delle persone disabili di poter scegliere sulla base di eguaglianza con gli altri in Sicilia non si procederà all'accorpamento dei forestali con i carabinieri nell'ambito di un progetto di revisione della spesa per 124 milioni di euro predisposto dal governo nazionale l'assessore regionale territorio ambiente Maurizio Croce spiega il perché abbiamo fatto tutte le verifiche del caso il corpo forestale è il quarto organico di polizia dello Stato mentre in Sicilia è l'unico della regione pur volendo non avremmo potuto accorparlo sarebbe stato complicato a livello giuridico abbiamo studiato la possibilità di scorporare il personale specializzato che aveva competenze nella lotta e reati ambientali ma ogni ipotesi non era fattibile anche nelle altre regioni a statuto speciale dovrebbe restare in vita il corpo forestale ad Agrigento le cicchie di sigarette d'ora in avanti non si getteranno più in mezzo alla strada o lungo i marciapiedi potranno essere lasciate invece all'interno di Posagenere fra piazza San Calogero che settava da là il viale della Vittoria porta di ponte l'aria adesso denominata Girgenti ha visto collocati infatti gli appositi contenitori Posagenere concessi dall'Accademia delle Belle Arti di Agrigento è l'ennesimo concreto esempio di protagonismo civico un esperimento al quale particolarmente il sindaco Lillo Firetto teneva protagonista civico è colui che non si ferma a lamentarsi per ciò che non va ma si mette in gioco per essere gli stessi l'artefice di una città che cambia e se da un lato si pensa già al fatto che il prossimo mese sempre in questo perimetro saranno collocati altri 16 Posagenere dall'altro c'è in cantiere da parte del Rotary Club la sistemazione dell'Obelisca e della Fontana che si trova all'interno di Villa Bonfiglio ma anche la manutenzione straordinaria e l'acquisto di giochi per bambini per la Villa del Sovere una quindicina di immigrati sono sbarcati ieri in zona Capobianco ad Eraclea Minoa in provincia di Agrigento con l'imbarcazione sono giunti fino all'Arenile fra lo stupore dei bagnanti che si trovavano in zona per una domenica di relax nel riva al mare abbandonato il natante i migranti sono immediatamente scappati fatta la segnalazione in spiaggia si sono portati i carabinieri che hanno avviato le ricerche tutte le aree, soprattutto quelle in direzione delle principate strade di collegamento sono state rastrellate sono state avviate le indagini e il natante è stato posto sotto sequestro non è escluso e non sarebbe nemmeno la prima volta che il piccolo gruppo di immigrati possa essere stato lasciato sotto costa da una nave madre non ce l'ha fatta il muratore di Mussomeli caduto da un'impalcatura un paio di giorni prima di Ferragosto Enzo Scannella 48 anni lo scorso 13 agosto mentre stava lavorando su un ponteggio per cause da accertare avrebbe perso l'equilibrio facendo un volo di qualche metro e finendo sul selciato una bruttissima caduta che a distanza di due settimane non gli ha dato scampo l'uomo è morto presso l'ospedale civico di Palermo oggetti in oro per circa 10.000 euro sono stati rubati da un'abitazione di via Diodoro Siculo ad Aragona ad entrare in azione rovistando e mettendo tutto sotto sopra è stata una banda di ladri malviventi che non si sono lasciati dietro le spalle neanche il più piccolo indizio nemmeno i segni delle frazioni a portone di ingresso o finestre ed è proprio per questo dettaglio che viene ipotizzato che i malviventi possano avere utilizzato la chiave bulgare a fare la scoperta è stata la proprietaria subito è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Aragona che hanno avviato le indagini stretta sulla vendita non autorizzata di alcolici nel fine settimana allicate i carabinieri dopo numerose verifiche effettuate in senoti locali della Movida nelle piazze Attilio, Regolo e Progresso hanno identificato una cinquantina di persone di elevato sanzioni per 335 euro a ciascun locale poiché è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni sono state inoltre effettuate perquisizioni alla ricerca di sostanze stupefacenti al termine delle quali cinque giovani sempre di Licata sono stati segnalati alla prefettura evade dai domiciliari e viene arrestato dai carabinieri è accaduto a Ravanusa dove Antonino Bella disoccupato 25 anni è stato sorpreso dai militari mentre si trovava fuori dalla propria abitazione l'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale Petrusa di Agrigento in attesa dell'udienza di Convalida scivola e batte violentamente la testa è dovuto intervenire nel risoccorso del 118 per portare in salvo una donna una bagnante che era al mare a Torre Salsa a Montallegro l'incidente a quanto pare si è verificato lungo il sentiero della riserva un medico che era sul posto ha subito immobilizzato la donna ed ha richiesto l'intervento di un'ambulanza agli operatori del 118 considerato che si tratta di un'area impervia non sono però riusciti a raggiungere la ferita ed hanno tempestivamente allertato la centrale operativa affinché venisse mandato un elicottero la donna a soccorso è stata trasferita al Santeria di Caltanissetta ha riportato un brutto trauma cranico ma per fortuna non è in pericolo di vita rapina i danni di una tabaccheria che si trova in via Pietro Micca sommatino in provincia di Caltanissetta due banditi a volto coperto uno dei quali armato di pistola hanno fatto eruzione nella rivendita sabato proprio prima dell'orario di chiusura sorprendendo marito e moglie terrorizzandoli con l'arma e nell'istante in cui uno ha tentato di mettere le mani nel registratore di cassa per raffare soldi l'altro ha strappato dal collo una catenina d'oro che indossava la donna ma il colpo è fallito a metà considerato che la moglie del tabaccaio ha urlato per attirare l'attenzione spiazzando così due banditi che sono scappati sulla vicenda indagano i carabinieri allicata le ruspe torneranno in azione il prossimo 19 settembre a stabilirlo sono stati i magistrati della procura di agrigento che come noto coordinano l'attività di demolizione delle villette abusive effettuata dal comune sono già 44 gli ex titolari di immobili che hanno ricevuto l'ordinanza di demolizione la data è per tutti la stessa il 19 del prossimo mese ovviamente non tutti gli abbattimenti potranno essere seguiti nello stesso giorno sarà la procura a decidere nelle prime ore del mattino dove fare intervenire le ruspe della ditta e così nei giorni a seguire di recenti magistrati agrigentini hanno indirizzato al comune ben 150 nuove ordinanze di demolizione e il dipartimento urbanistica dell'ente sta notificando i provvedimenti agli interessati la novità rispetto alle demolizioni eseguite dal 20 aprile alla fine di luglio è costituita dal fatto che stavolta i provvedimenti non riguardano solo case costruite entro i 150 metri dalla spiaggia ma anche stabili edificati nel centro abitato di Licata che non potevano essere sanati sport e calcio non è andata al di là del pareggio casalingo ieri all'esordio allo stadio Esseneto di Agrigento l'Akragas che giocava contro la Vibonese alla fine del match la sensazione è quella che i biancazzurri abbiano perso per strada due punti preziosi contro un'avversaria decisamente abbordabile più amarezza che soddisfazione per i biancazzurri dopo il pareggio contro la Vibonese degli ex Giuffrida e Saraniti ed è stato proprio l'attaccante con la maglia numero 9 chi ad Agrigento ha giocato a più riprese sia in eccellenza che in Serie D a castigare gli agrigentini è stata una partita da due volti dove la condizione fisica ancora non al massimo dalla squadra allenata da Raffaele di Napoli ha avuto un ruolo non indifferente nelle riprese infatti i biancazzurri sono calati visibilmente e la partita ha preso una piega diversa parte invece bene la stagione del canicatticalcio che nella gara d'andata del primo turno di Coppetale di Promozione ha battuto ieri al Carlotto a Bordonaro per 1-0 il Serra di Falco a decidere la gara è stato il gol nella ripresa di uno dei nuovi acquisti della società biancorossa di Franco arrivato nelle scorse settimane dalla Nissa contro un volentieroso Serra di Falco il canicattica ha tenuto in mano il pallino del gioco per larghi tratti della partita creando diverse occasioni da rete dalla parte dell'ottimo portiere ospite Lomonaco il canicattica di mister Giovanni Falsone davanti a un caloroso pubblico che ha incitato la squadra dal primo all'ultimo minuto ha meritato la vittoria proprio alla luce della prestazione spettacoli e iniziative a canicattiro ma ritorna domani e dopodomani in città il Basker Festival si tratta della seconda edizione dopo il successo della prima ottenuta lo scorso anno stamattina presentazione ufficiale dell'evento durante una conferenza stampa Assessore due giorni per valorizzare il centro storico di Canicattì torna il Basker Festival tanto successo lo scorso anno quali sono le aspettative? Ma intanto speriamo che la gente raccolga questo invito sono due giorni dedicati alla città soprattutto uno dei luoghi più belli di Canicattì il borgo Borgalino coinvolta la badia e soprattutto sono coinvolte le strade il Basker Festival raccoglie molti diciamo artisti di strada ma che non sono soltanto diciamo locali ma provengono anche da tutta Europa oltre che dal resto d'Italia questo perché il festival ha un tocco diciamo di senso internazionale e vuole dare alla città la possibilità anche di aprirsi a usi costumi che sono diciamo lontani da noi però vicini come sentire i due giorni sono dedicati al territorio al recupero del territorio e a mostrare le bellezze di questa città che non sono poche anzi devo dire sono tante devono essere rivalutate devono essere valorizzate devono essere restituite alla città come luoghi di appropriazione e anche come luoghi del vivere quotidiano e questo è il senso del festival ovviamente questo ha anche come obiettivo quello di mostrare quelle che possono essere le capacità artigianali del nostro paese e quindi ci saranno degli allestimenti come se fossero stanze diciamo per strada e oltre a questo abbiamo anche cercato insieme agli organizzatori del festival di parlare di differenziata che è uno dei temi più spinosi ma necessari da affrontare perché insieme alla comunità di Canicattì abbiamo iniziato questo percorso per adesso solo relativo oltre ponte però che poi sarà allargato a tutta la città e questo merita una cultura particolare quello dell'impegno di ognuno di noi di cominciare a vedere la prospettiva del futuro un paese più pulito Simone Luglio seconda edizione del Basker Festival quali saranno le novità? Allora le novità di quest'anno sono sia pratiche che artistiche intanto artistiche perché abbiamo degli artisti che arrivano da tutto il mondo vengono dall'Argentina dalla Polonia dalla Francia Strasburgo ma anche gruppi importantissimi da Perugia da Roma che sono stati in tournei in Spagna andranno dopo di noi andranno in Olanda a fare spettacolo questo ci riempie di orgoglio perché far venire gli artisti di questa caratura a Canicattì è molto importante tra le novità c'è questo videomapping che è un'installazione video che ha come superficie di proiezione una delle più grandi che si sono mai viste in Sicilia sono artisti visual artist molto molto importanti che si occuperanno di noi poi apriremo l'abbadia la chiesa dell'abbadia e faremo una specie di acquario dove poter sbirciare dentro la bellezza e il degrado allo stesso tempo è un luogo un luogo fantastico da sogno nel centro storico di Canicattì tra l'abbadia e la maniera di incantissimi e sarà una cittadella dell'arte che comincerà alle 20.45 durerà fino a mezzanotte inoltrata l'anno scorso finivamo alle 2 veramente è un'occasione per venire a mangiare bere divertirsi e crescere Lucia Cammalleri anche quest'anno torna il Basker Festival Simone ci ha detto e ci ha parlato di alcune novità e invece cosa vogliamo aggiungere? vogliamo aggiungere che siamo felicissimi di presentare il programma di quest'anno perché è pieno di artisti che per Canicattì sono una novità assolutamente mai vista in questa città e crediamo anche nel circondario avremo degli ospiti che porteranno il circo contemporaneo la comicità la televisione vista come un momento spettacolare non di solo di puro intrattenimento delle installazioni la formula rimane invariata quella di poter entrare in ogni momento durante gli spettacoli e poter fruire di quello che si vuole liberamente nell'assoluta scelta di quella che è la proposta artistica siamo molto contenti di avere questa possibilità e speriamo che il pubblico venga numeroso la 27esima edizione del premio Racalmare Leonardo Ciascia è stata vinta dal libro Il ballo degli amanti perduti di Gianni Farinetti la giuria tecnica presieduta da Dario Costantino attribuito al vincitore 89 punti al secondo posto si è piazzato Giorgio Montefoschi con il buio dell'India e bronzo per Sara Favarò con il libro Le porte del sole ieri sera in piazza Grotte la consegna del riconoscimento la cerimonia è stata presentata da Carmela Arnone e Flavia Morreale presente il sindaco Paolino Fantauzzo questa era anche l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci seguito e a tutti voi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti